Ciao a tutti, sono Michele Discommesso e .commentarecensioni.com Oggi andremo a vedere come registrarsi al sito di quigioco.it Dalla pagina principale andiamo a inserire i nostri dati Quali il nome, cognome, data di nascita La nazione, che è già menzionata La provincia, che la vado a cercare nel menu a tendina Ed il comune di nascita Cittadinanza, sempre menzionata Il nostro sesso, codice fiscale appare automaticamente Confermiamo che questo è il nostro codice fiscale Inseriamo la nostra professione E se siamo una persona politicamente esposta a no Fase successiva In questa pagina andremo a inserire i nostri dati di residenza La nostra provincia di residenza Il comune La via Numero civico E il nostro numero di cellulare In alto a destra Ripetiamo il numero E clicchiamo a fase successiva A questo punto Vogliono che inseriamo il nostro documento di identità Nel mio caso uso il passaporto Vado a inserire il numero Data di rilascio Data di scadenza Rilasciato dal ministero degli affari Clicco fase successiva Andiamo all'ultima pagina di registrazione Dove ci vengono chiesti i dati del conto Inseriamo il nostro nickname Nel mio caso Michele Recensioni Una password Quella che mi suggerisce Google va benissimo Poi la nostra email Ripetiamo la mail Domanda di sicurezza Cognome di mia madre Va benissimo Codice presentatore appare automaticamente Codice promuera Periodo di tempo Dei limiti di deposito Io metto settimana 50 euro settimana Va benissimo Vado a confermare limiti Vado in fondo E Vado a spuntare tutti questi campi obbligatori Sulla privacy Che ho letto il contratto di gioco A questo punto Clicco registrati Ecco che ci siamo registrati al sito di qui gioco E vado a cliccare gioca ora Per oggi è tutto ragazzi Buone scommesse Grazie a tutti Grazie a tutti